Una bella serata dedicata alla grappa qui a Origio alle porte di Saronno. Abbiamo presentato due grappe invecchiate e due brandi italiani invecchiati. La prima grappa era una grappa friulana con un blend di 10 annate di invecchiamento diverse. La seconda era una grappa trentina di Amarone, grappa di grande importanza. E poi abbiamo i due brandi di un produttore emiliano. Il primo invecchiato 23 anni in botti di rovere dove poi viene fatta un'infusione di tabacco Kentucky che è una varietà di tabacco usata per il sigaro toscano. E l'ultimo brandi è un brandi invecchiato 21 anni a piena gradazione, quindi così come viene distillato. Bere bene, bere consapevole senza esagerare, questo è un po' il vostro motto. Sì, bere bene, bere diciamo consapevole, quindi bere bene consiste non tanto nel bere in se stesso, ma nel degustare e provare piacere nel degustare, quindi provare piacere nel sentire i profumi, sentire le varietà di profumi, le differenze, i sapori, le varietà di sapori durante la degustazione. L'interesse per la grappa sta crescendo? Sì, è un mondo che per fortuna sta recuperando parecchio negli anni, era andato un po' a perdersi, invece i produttori per fortuna hanno fatto un dietro fronte, hanno invertito la marcia, hanno capito che serviva un prodotto di qualità per rilanciarsi anche a livello internazionale. Stiamo scoprendo soprattutto nuovi mercati, tanti produttori stanno scoprendo nuovi mercati, anche nell'est con la Cina, dove la grappa la sta facendo un po' più da padrone rispetto ad altri distillati. Ha recuperato parecchio e va dato tanto di cappello e tanto di merito a tutti i distillatori per il loro lavoro.